E' appena finita la partita fra la Banca Popolare di Vicenza e la Comarco Bergamo Basket con la vittoria della Bergamo Basket. Altra grossa vittoria per i gialloneri è stato il rientro in campo di Stefano Saletti dopo 5 mesi di inattività. Stefano, come è stato vivere questi 5 mesi nei quali non hai potuto calcare il campo per partite ufficiali e al massimo hai potuto assistere a qualche allenamento dei tuoi compagni? Sì, sono stati 5 mesi molto difficili, però sono sempre stato comunque vicino alla squadra, abbiamo fatto gruppo, ci siamo conosciuti, mi sono trovato bene sin dal primo momento con ognuno di loro e ora che sono tornato ad allenarmi mi sento rinato. Ok, e cos'hai provato invece quando coach Cicciocca ti ha detto che stavi per entrare e i tifosi ti hanno dedicato un lungo coro? No, è stato sicuramente un bel momento, sono entrato col sorriso sulle labbra e sentire comunque il mio nome essere urlato più e più volte mi ha comunque fatto molto sorridere, è stato un momento felice, poi vabbè mi ha chiamato e ho detto tocca portare le paste. Esatto, appunto dicevo per le regole dello spogliatorio adesso ti toccherà portare paste e pasticcini per la gioia dei tuoi compagni. Grazie mille Stefano e alla prossima. Alla prossima.